Amici ascoltatori benvenuti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Salottiamoci, puntata in cui continuiamo a soffermarci sulla inchiesta che riguarda l'ospedale di Molfetta, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare già alcune voci, in questa occasione invece ascoltiamo il dottor Pino Amato, voglio ricordare che il dottor Pino Amato è stato per tanti anni assessore, è stato anche per tanti anni presidente del Consiglio Comunale, voglio dire è una persona come come sol dirsi informata dei fatti, una persona che ha seguito anche moltissimo tutte le situazioni legate alla sanità molfettese, quindi come dire è una persona da cui sicuramente possiamo trarre ulteriori contributi di riflessione. Allora negli ultimi giorni si sono diciamo accavallate una serie di informazioni, di notizie, di dati eccetera, però la domanda che molti cittadini si pongono è questa dottor Amato, ma l'ospedale di Molfetta, non so come di Molfetta, è destinato ad essere chiuso oppure no? Ma io credo che purtroppo sulla storia dell'ospedale di Molfetta negli ultimi anni ognuno ha tirato l'acqua al proprio mulino, chiaramente Molfetta ha pagato la politica di non avere rappresentanti in Consiglio regionale che hanno tutelato gli interessi dei molfettesi e soprattutto dal nostro ospedale. Dall'ultimo piano del riordono ospedaliero è prevista la chiusura dell'ospedale di Molfetta, però credo che questo si possa ancora riprendere e rivedere perché comunque il piano del riordono ospedaliero dovrebbe scadere tra qualche mese e quindi la Regione Puglia o la Giunta regionale potrebbe ancora modificare e rivedere il destino del nostro ospedale. È chiaro che qua al di là delle appartenenze l'ospedale di Molfetta non è né di destra né di sinistra, è dei molfettesi, degli anziani soprattutto e noi ci dobbiamo preoccupare affinché tutti i molfettesi possano avere una cura adeguata perché sappiamo tutti quanti che avere un ospedale nella propria città o nei paesi vicinoli è importante per qualsiasi emergenza. Quindi il mio augurio è che l'ospedale di Molfetta non venga chiusa e che non diventa un PTA, cioè praticamente un piano territoriale, praticamente significherebbe avere un po' l'ambulatorio dove in caso di emergenza viene visitato l'amalato e poi destinato al paese più vicino per le emergenze più importanti. Io come consigliere comunale, vicepresidente del Consiglio Comunale, al di là dell'appartenenza politica mi batterò affinché questo non avvengo. Spero che tutte le forze politiche come noi abbiamo già dimostrato in Consiglio Comunale abbiamo fatto un ordine del giorno unitario affinché l'ospedale di Molfetta non chiuda. Allora, se dottor Amato, così chiariamo ovviamente una punta di precisazione che credo sia necessaria. Quando si parla di PTA, amici ascoltatori, parliamo proprio di un piano territoriale di assistenza, cioè un po' quello che ha spiegato lui. Allora, lo dico perché questi termini ormai cominciano ad entrare in uso, per esempio come ospedale di primo, secondo livello, hub, eccetera. Allora, diciamo l'ospedale di Molfetta, lei ha detto che forse corre il rischio di chiusura, ma quando si parla di chiusura, parliamo o facciamo riferimento ad un ridimensionamento, ad uno svuotamento o ad una chiusura vera e propria? Praticamente ci sarebbe una chiusura, cioè non avremo più un ospedale. Cioè i reparti non esisteranno più, esisterà degli ambulatori o tipo pronto soccorso dove accoglieranno le emergenze con una radiografia, dove si possono fare radiografie, individuare più o meno la situazione dell'amalato o di colui che deve essere soccorso in quel momento e poi destinato, diciamo, agli ospedali che possono intervenire in maniera più efficace. Quindi Molfetta non avrà più un ospedale se si continua ad andare avanti in questa situazione. Però al momento, ripeto, il piano di riordono ospedaliero è fermo al 2015-2016, adesso non ricordo bene, è in scadenza e quindi si potrebbe ancora intervenire sulla giunta regionale. Quindi il presidente della regione Puglia, Emiliano, che è venuto in questa città precisamente a Piazza Paradiso, ha preso degli impegni con il sindaco all'epoca, candidato sindaco Tommaso Mervini, promettendo ai Molfettesi che l'ospedale non si sarebbe chiuso. Il mio augurio è che l'ospedale di Molfetta non venga chiuso, perché io non è che faccio il tifo per chiudere l'ospedale di Molfetta. Ma ad oggi la situazione, diciamo, prevista per l'ospedale di Molfetta è la chiusura. Tant'è vero che i reparti come cardiologia e nefrologia oramai stanno andando via. Allora, altra domanda, visto che appunto credo sia il caso proprio di entrare più nel vivo. Lei ritiene che vi siano delle responsabilità pregresse? Ma certamente, perché la classe politica che in questi anni ci ha rappresentato alla regione Puglia non è che doveva fare un discorso di campanilismo, diciamo, sul nostro ospedale. Però teniamo conto che Molfetta è una città di oltre 60.000 abitanti e che copre un bacino di utenza di circa 200.000 abitanti. Se noi mettiamo intorno a Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo, l'area commerciale che abbiamo a Molfetta, nei weekend, sabato e domenica, a Molfetta girano circa 200.000 persone. Quindi Molfetta meriterebbe, chiaramente non con 70 posti letti, ecco, perché poi c'è anche il discorso dei primari. Cioè è vero che bisogna avere delle strutture, ma poi dobbiamo avere anche primari capaci di poter dare il meglio per curare, diciamo, gli ammalati. Quindi che cosa voglio dire? Che Molfetta può ancora diventare, non dico un ospedale di primo livello, però mettendo insieme questi piccoli comuni con Molfetta, che è il terzo comune dell'area metropolitana, potremmo avere anche un ospedale di primo livello insieme a Biceglie. Altra domanda. Allora, pochi giorni fa, diciamo, vi sono state un po' delle battute da un punto di vista politico relative proprio, come dire, a questo potenziamento dell'ospedale. Sono arrivati in città, il sindaco ha tenuto una conferenza stampa, dicevo, sono arrivati in città anche alcuni vertici, diciamo, della regione, no? E vi sono state una serie, come dire, di pronunciamenti, no? Allora, sono promesse oppure vi sono realtà? Cioè queste, come dire, queste ulteriori novità... Definiamo le promesse, non voglio parlare, siamo quasi in campagna elettorale, non mi permetto di fare affermazione di questo tipo, però voglio dire, sono cose arcinote o sono delle novità reali? Quelle che sono state proposte? Guarda, io non ho seguito solo un incontro che il sindaco ha avuto con alcuni medici dell'ospedale. A me sembrano più promesse, perché ho intenzioni. Chiaramente il sindaco di Molfetta, credo, come tutti noi, si stia battendo affinché, diciamo, l'ospedale di Molfetta non venga depotenziato o addirittura chiuso. Questo è l'auspicio che ci auguriamo un po' tutti. Però il dubbio che sto avendo, vedendo la politica che in questo momento il nostro presidente della regione Emiliano sta facendo, è quello di promettere tutto e tutto al contrario di tutto. Quindi delle promesse di Emiliano non mi fido, di quelle del sindaco le devo verificare. E ripeto, diciamo, la mia battaglia, come tutti quanti, sarà quella di non far chiudere l'ospedale di Molfetta. Ma in questo momento, siccome il piano di riordino ispedaliere è rimasto lo stesso, sono solo promesse o intenzioni. Ulteriore domanda. Allora, visto che molti si parlano di un eventuale potenziamento, però si parla anche di Terlizzi, Ruvo, Corato, eccetera. Ecco, l'eventualità, diciamo, di una scelta di questo tipo, che escluda la nostra città, la città molfettese meglio, ecco, vede attenti i, diciamo, i politici molfettesi? Ma io in questo momento non vedo, perché abbiamo un'amministrazione piatta, diciamo, dove non è rappresentata da partiti nazionali, ma da liste civiche, dove non vedo un interessamento sulla questione ospedale. È chiaro che noi ora cominceremo a prendere delle iniziative con delle grosse manifestazioni affinché l'ospedale di Molfetta rimanga aperto per i molfettesi. Ma non vedo un grosso interessamento. tolto il sindaco, che come capo, diciamo, dell'amministrazione, della città, in quanto lui ha preso degli impegni con il Molfettesi, si sta muovendo affinché non succeda una tragedia vera e propria e che l'ospedale venga chiuso. Ma di forze politiche che in questo momento si stanno interessando del nostro ospedale, non ne vedo affatto. Pensiamo ai giardini. L'altro problema grosso di Molfetta è il problema delle strade, delle buche. Per ora mi voglio soffermare sull'ospedale e poi su altre cose. Vedo i giardini, le sistemazioni di qualche pianta, roba di chiacchiere, ma sulla questione ospedale, che è una questione fondamentale per la nostra città, dove i nostri politici, i nostri genitori, si sono battuti per avere un ospedale a Molfetta, sto vedendo una situazione molto critica con il rischio che Molfetta rimanga senza ospedale. Un'ultima domanda. Allora, poiché si parla tanto di ottimizzazione, di rendere efficienti anche i servizi sanitari e quindi anche le stesse attività ospedaliere. Allora, facevo riferimento prima agli altri ospedali, ma è solo una forma di campanilismo quella che spinge a difendere e a tutelare gli interessi dell'ospedale Molfettese? O c'è una logica ancora più importante, cioè quella a cui faceva riferimento lei poco fa, un bacino di utenza notevole, la geolocalizzazione? Esattamente, diciamo, Molfetta non è un fatto solo di campanilismo. Molfetta è una città che è la terza, come ho già detto, la terza città dell'area metropolitana. È chiaro che se io sarei stato residente di Giovinazzo non potevo pretendere, dico Giovinazzo, tanto per dire Giovinazzo o Terlizzi, pretendere di avere un ospedale di primo livello nella mia città. Però mettendo insieme questi paesi che oramai sono quasi collegati da due o tre chilometri da noi, io avrei creato un polo, diciamo, d'eccellenza che raggruppava tutti questi, diciamo, piccoli comuni insieme a Molfetta, che è una delle più grosse città dell'area metropolitana. Per davvero, un'ultima domanda. Noi la conosciamo, un po' tutti la conoscono, come dire, un personaggio politico verace, aggressivo, sanguigno, battagliero. Quindi conferma, diciamo, questo suo punto di vista e soprattutto questa sua voglia, diciamo, ecco, di spendersi per questa battaglia? Certamente, anche perché l'ho dichiarato più volte, diciamo, questo interessamento, ma come politico, ma come cittadino molfettese, di difendere il nostro ospedale. Io mi auguro che tutte le forze politiche, destra, sinistra, centro, si impegnano insieme a mantenere questo impegno di non far chiudere il nostro ospedale. Chiaramente la battaglia sarà dura perché io credo che le decisioni sulla sorte del nostro ospedale sono state già prese, ma mi auguro che con l'impegno di tutti si possa ancora rivedere qualcosa. Benissimo. Allora, noi ringraziamo il dottor Pino Amato e ricordiamo ai nostri telespettatori e ai nostri telespettatrici che seguiremo ancora le vicende all'ospedale e che con ogni probabilità poi risentiremo il dottor Amato a distanza di qualche mese, verificheremo anche, perché no, il suo impegno e soprattutto verificheremo che le cose poi magari assumano una certa direzione. Noi vi invitiamo a seguirci sempre perché vi proporremo altre interviste di altri personaggi, di altri politici, di medici, proprio per tentare, come abbiamo sperato di fare, di buttare il classico sassolino nello stagno e cercare di alimentare il dibattito pubblico cittadino come sempre in maniera civile e non assolutamente né polemica né conflittuale. Grazie ancora al dottor Pinamato. Grazie a voi. Sarò sempre presente per gli interessi della città. Benissimo. Grazie e risentirci al nostro prossimo appuntamento. Grazie a tutti.